Ricordo tutte le storie degli studenti che ho avuto. Per me sono tutte speciali. Senza quelle storie non sarei quello che sono. Prof, ma com'è che non siamo mai felici? La verità è che non ci sapete dare più consigli, prof. La verità è che voi adulti siete un invito al massacro. Prof, ma come si fa a sentirti amati? Essere se stessi fino in fondo senza averne paura. E questa è la felicità. Siamo all'assurdo, prof. Siamo all'assurdo che oggi se un ragazzo è felice lo invidiano anche i genitori. Posso dirlo? Secondo me è proprio un mondo di merda, prof. No, ditemelo voi. Ditemelo voi. Che cazzo deve fare Saverio? Che cazzo deve fare Saverio? Mamma che faccia, è sempre acidi, acidi state. E mai un buongiorno a ridere? Non, 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 non